Salve a tutti ragazzi, allora in questo video vedremo l'integrale triplo sul dominio ω di x, dx, dy, dz, dove l'esercizio dice ω è la porzione di cilindro verticale di asse x uguale a 3 e y uguale a 2 e raggio 2, compresa tra il piano orizzontale 0 uguale a 0 e il piano obbliguo d'equazione x più y più z uguale a 9. Allora andiamo a vedere questo dominio come si presenta, quindi il cilindro ragazzi è questo, ma la situazione vista dall'alto, cioè questo è nello spazio, se io prendo un elicottero e vedo questa figura dall'alto vedrò una circonferenza, ovviamente una circonferenza di raggio 2 dove le coordinate della circonferenza, del centro della circonferenza sono 3 e 2, perché me lo dice proprio il testo. x uguale a 3 e y uguale a 2, per cui avrò l'equazione di una circonferenza x meno 3 al quadrato più y meno 2 al quadrato minore uguale a 4, perché il raggio è appunto 2 e quindi 2 al quadrato è appunto 4. Quindi questa è la forma della circonferenza, se ricordate bene in geometria analitica, scritta in forma cartesiana, ok? z è maggiore uguale a 0, quindi siamo al di sopra del piano xy, e poi abbiamo appunto questo piano, diciamo, obbliguo, ecco, minore uguale a 9, quindi incontrerà l'asse y, x e z nei punti 9. Quindi abbiamo questo cilindro tagliato trasversalmente da questo piano, va bene? Quindi dall'alto la figura si presenta in questo modo. Ovviamente abbiamo a che fare con un cilindro, quindi qua non abbiamo, abbiamo soltanto l'angolo θ che, diciamo, varia in un reggio tra 0 e 2π e quindi passiamo in coordinate cilindriche. Però attenzione che le coordinate cilindriche devono essere appunto decentrate. E allora x è uguale a 3 più ρ cosθ, y è uguale a 2 più ρ senθ e 0 è uguale a 0. ρ ovviamente è maggiore o uguale a 0, θ è compreso fra 0 e 2π e il nostro jacobiano è sempre uguale a ρ. Allora cosa osserviamo? Che ρ è compreso fra 0 e 2, ok? Perché va da 0 a 2 quant'è il raggio del nostro cilindro. L'angolo θ non abbiamo problemi perché θ varia fra 0 e 2π, quindi ci possiamo muovere liberamente. E ovviamente z varia fra 0 e 4 meno ρ cosθ meno ρ senθ. Questo perché? Perché se io esplicito z, ovviamente z mi dice intanto dal testo che deve essere maggiore di 0, perché dice compresa tra il piano orizzontale z uguale a 0, quindi maggiore o uguale a 0, e il piano obbligo che è questo. Se io a x e alle y vado a sostituire queste coordinate, a conti fatti otterrò questa disuguaglianza, va bene? Quindi il nostro integrale di partenza diventa, appunto, avevamo x, ma x che è 3 per ρ cosθ, che moltiplicarò il nostro jacobiano in d ρ dθ dz. Quindi avremo nella fattispecie integrale fra 0 e 2 in dρ, perché ρ abbiamo detto che varia fra 0 e 2π in dθ, dell'integrale tra 0 e 4 meno ρ cosθ, meno ρ cosθ, della nostra funzione integrande. Ovviamente se noi in dz, no? Ovviamente rispetto a z andiamo ad integrare questa funzione, che si presenta con la variabile ρ e il cosθ, ovviamente l'integrale di questa funzione sarà appunto, andando poi a sostituire, sarà uguale a z che moltiplica questa quantità. Però a 0 poi vado a sostituire il valore, l'estremo superiore, meno l'estremo inferiore, cioè meno niente, in realtà, e quindi avrò 4 meno ρ cosθ, meno ρ cosθ, che moltiplica appunto questa quantità. Perché ricordo, l'integrale più interno è 3 ρ più ρ quadro cosθ, che moltiplica z, perché questa è una costante rispetto a z, è chiaro? Quindi sostituendo questi valori, da prima questo e poi questo, otteniamo questa quantità. Andando poi a moltiplicare il tutto, otterrò l'integrale fra 0 e 2 dell'integrale fra 0 e 2π, tutto in dθ, perché θ varia fra 0 e 2π, di tutta questa quantità. Però attenzione ragazzi, per la proprietà di linearità degli integrali, io potrei spezzare l'integrale in tanti sottointegrali, li andrei a sommare. Però attenzione che in matematica, e questo l'ho già detto più di qualche volta, è molto importante andare a valutare le simmetrie, ok, delle funzioni che figurano all'interno dell'integrale. Beh, io so che seno di θ e senθ cosθ sono delle funzioni comunque dispari. La funzione coseno non è una funzione dispari, ma se la considero in meno π mezzi e π mezzi, è una funzione pari. Però in 0 e 2π tutte queste funzioni, sappiate che si annullano, sono uguali a 0. Per cui non mi rimane altro che l'integrale di 12ρ, meno ρ al cubo cosen quadro θ. Perché, ripeto, queste quantità vanno a 0. Voi potrete prendere l'integrale fra 0 e 2π di cosenθ e fra 0 e 2π di senθ e di senθ cosenθ, vedrete che saranno uguali a 0. Quindi, molto banalmente, il mio integrale diventa integrale fra 0 e 2 in dρ di questa quantità che abbiamo visto prima, fra 0 e 2π. Questa quantità ovviamente è in dθ. Allora, l'integrale di 12ρ in dθ sarà 12ρθ meno ρ al cubo, questa è una costante, in dθ ovviamente cosen quadro θ. L'integrale di cosen quadro θ è un integrale immediato. L'abbiamo già visto in analisi 1, è uguale ad un mezzo. In realtà io ho messo x, però andava messo, no? Se dobbiamo essere un po' più precisi, θ, quindi mi correggo subito. È l'abitudine ovviamente a scrivere. Quindi andiamo a scrivere θ, senθ, cosθ, va bene? Ok, torniamo a noi. Se io vado a sostituire da prima 2π a queste quantità e poi 0, e ovviamente otterrò integrale fra 0 e 2 a conti fatti, questi qui sono conti molto banali ragazzi, se si tratta di conti algebrici e di mere sostituzioni, 24ρρ-πρρ al cubo. Ovviamente dovendo svolgere poi l'integrale in dρ, abbiamo 24ρρ-ρ quadro mezzi, menoρρρ-ρρ fratto 4, ovviamente con le dovute semplificazioni, e sostituendo da prima il valore superiore, meno il valore inferiore, il risultato cercato sarà appunto 44π. Allora, io spero di essere stato chiaro anche con questo esercizio sugli integrali tripli e arrivederci al prossimo video.